Stiamo andando al Greco, in via Grellina, però non so di un preciso tempo, no? Aspetteremo l'autore che ci potrà. Mi piace questo Greco? Buono, buono, buono. Mi piace? È mondiale, è mondiale. Ecco il festeggiato, Lorenzo Sarani. Mancano dei pezzi, mancano dei pezzi. Grazie, la fissi rossi. Io non ho sentito bene, ma... Ma non ho fatto una guanta a me. Ma non ho fatto una guanta a me. Ma non ho fatto una guanta a me. Sai che ci vuole metto, non lo dice. Video, 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 video. Video, 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 video. Quando si fa filmi, no? E' solo metto il corpo, ho! Ma che c'è un'espreta, le pettine? E ti basta, ragazzi! Non volevo chiedere cosa vado a fare. Ok, sei trato! Ok, ciao! Questo è un piacere! Allora, mi sono affitto, mi sono affitto! Come lo ho fatto, come lo ho fatto, mi sono accusato di tutto il mio pallacusato. Di cosa? Questo è il confessionale. Comunista! Comunista Di cosa ti accusano? Perché cazzo mi sono di tante cose e mi sono sentito in colpevo e rimane fermo L'unica colpa che ha è che è comunista Che è? Comunista Oh, non c'è l'unica colpa che ha Non c'è l'unica colpa che ha Qual'è? Che fa provini per Xfadro Ma non è Xfadro Ecco là Ecco là Oh ragazzi E non ve lo direi E si sa che è di Xfadro Ma perché è di Xfadro? Ci sono molti pezzi di merda Perché si sa tu, si sa tu, dovevo gire Tu sei andato più giocista Ma perché è Xfadro? E tu hai due vite diverse Due vite diverse Vieni, vieni È arrivato Francesco Non c'è un'assistenza a Xfadro Ma perché Marempio? Vuoi due bari a Marempio? Vero o no? Mi hai detto Che cazzo dì? Che ha detto, Che cazzo dì? Che ha detto! Ma quina tanto? Stava dicendo Che Fav 조 lo buttava fuori i cechi Eh dai se non sono io Non lo buttava fuori Si ha riumché al comportamento Ma no, quello che si dicevano è che c'è chi sarebbe potuto andare con cecco e cibo, tu gli hai fatto perdere il treno perché l'hai trattenuto e poi l'ha mandato via. Qualcuno ha aspettato alla stazione un altro treno e questo treno non è arrivato. E allora penso che è più importante. La De Filippi. Qui si può fare quelli giusti e quelli sbagliati. Hai avuto sempre sull'amorinio. Eccolo. La c'è anche su internet. Cos'è questo borgio? E questo qui cos'è? Questa è una raffa invecchiana, barriccata, insieme alle patatine. Buona idea. Allora, che gioco. Io aspetto di vada via la fame, vuole le mangio io. Perché la vita è un complotto. Tu dici? È tutto un complotto. Tu dici Fabio? Mi lo schiena che lo stavo su Facebook, ti fa vedere a tutti. Ti fa vedere a tutti. Ti fa vedere a tutti. Ti fa vedere a tutti come la pensavo. E poi è giusto informarsi alla mia e ai social devono anche a questo. Per informarsi su quello che c'è intorno a noi. Però insomma, tutte le informazioni che prendiamo devono essere prese olle molle perché c'è veramente... In questo momento tutti possono fare giornalisti e della senza notizia ci fa mille migliaia più versioni. E' un casino, non sai più a chi, a chi, a chi, non sai più a chi sfidarti. E' un casino, vero l'ho detto? Sì sì, vero l'ho detto. Sì sì, vero l'ho detto. Poi, la fia ma che va? Per usciare l'oretto. E infatti ho la mucciarro. Il Cicillo c'ha un po' le cosine rosse eh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate, un dottore e un musicista. Un dottore e un musicista. Due personalità diverse. Un dottore e un musicista. Un dottore e un musicista. Un dottore e un musicista. È caduta la carne a terra. È caduto sul fuoco. Un po' di erba, ragazzi, gli fa bene. La latte, l'erba, attacca, no? Questo piatto sembra e saggia come un pezzo di merda. Merda. Via. Guardate lì che uomo, che uomo! È un video, tutto per voi. Guardate, andiamo con la braccia io, sono tutti i Masterchef, andiamo a tutti, cosa, come si chiama? Tutti, tutti va. Ecco qua, Vissani, Bastianich, poi c'è il Lippi, e il Craco qua. Quando uscino io, da una fila diventano tutti. Bene, mi piace. Molto buono. Il problema con questo piatto, che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame. e devo andare all'ospedale, adesso, se no, muoro. Il ferro è quello più salutare. È un dottore. È un dottore. Grazie. 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 Grazie a tutti. c'è chi oh oh io lo licenzierei subito ah che cazzo sta una fiambata eh incredibile posso parlare dai banco posso parlare dai banco ciao guarda 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 dov'è andrà da mattina? io da andrà a fare un buonifio alle poste di acane ma che sarà aperta da mattina anche aprile se no c'è un montello qui il pomeriggio ma c'è una fila di acane ma ti farei io mi sveglio la mattina quando andrà a fare la fila per pagare il buonifio di acane eh eh come fa se non fai il buonifio di acane e di acane voglio lì quel contante gli faccio il contante io di acane voglio gli sganci i cash gli sganci io i buonifio di acane lo che andrà lì di acane c'è la feggio fila di acane mi ci piglia male lo che metterla a sveglia più sveglio penso di acane che mi so svegliacchio proprio andrà a fare i buonifio di acane ma ti farei poi a fare i buonifio le mattina di acane andrà lì pagato per fare la fila di me il pomeriggio anzi un buonacchi il pomeriggio di acane e voi lì quel contante gli riderò mai di acane gli faccio il contante di acane ma tu sei contento di farlo? noi sono contenti e sono contante contento eh contante si vuole a fa' una guiribonà di acane non sai che fa' e ti va a letto di acane che ore sono? di acane le tre le tre di notte ma non devi andare a letto tu alle tre di notte di acane ti va bene fuori c'è sto qui con gli amici di acane tu stronzai di acane io va a casa qui con gli amici per un tanto di acane di camolino ma è buonico francesco francesco che con gli amici che con gli amici che con gli amici di acester che con gli amici che con gli amici i amici a tutti che con gli amici Grazie a tutti.